Il mercato estivo si conclude venerdì 1 settembre alle ore 20. Di fatto restano pochi giorni. Il centrocampo va necessariamente corretto. Una mezzala è secondo noi anche un play puro che abbia caratteristiche adatte al gioco di Zeman. La priorità è l'ingaggio di un interno a tutto campo. I profili sono noti. Il 25enne Simone Franchini del Padova due anni fa in prestito al Monterosi. Il classe 98 del Crotone Alessio Tribuzzi che però salvo sorprese non è in uscita dal club calabrese. Il 29enne Dimitrios Sunas del Catanzaro ne ha promosso in B. Finora nelle prime due partite di campionato soltanto tre minuti in campo per il calciatore greco che potrebbe anche chiedere l'accessione. In realtà più trequartista che non mezzala. E così in questo momento crescono le quotazioni di Fabio Scarsella. Classe 89, 34 anni già compiuti. Oltre 400 presenze in C e ben 92 gol. Tantissimi per una mezzala. In C Scarsella è un giocatore di indubbio spessore. È in uscita dalla Vicenza. L'ostacolo è rappresentato dall'ingaggio. 175 mila euro netti per una stagione. Pescara sarebbe disposto a stipulare un anno di contratto ma a cifre senza dubbio più basse. Questione play. Nelle squadre di Zeman il regista è stato sempre schematico. In uscita palla deve subito verticalizzare senza fare più di due tocchi. Non lo è per caratteristiche squizzato che magari diventerà play anche ottimo ma ci vorrà del tempo. Lo stesso Aloy è adattabile ma non è un regista. Non partirà Vergani e neanche Messick, come già sottolineato, non avrebbe senso privarsi della difensore slovacco. Un intero campionato di C da protagonista contribuirebbe invece alla maturazione dell'ex Nord Sealand. Arriverà un quinto centrale. Delicarri ha risposto con un no secco ma la sensazione è che la DS Bicazzurro proverà a fare qualcosa anche nelle retrovie. La lista oggi è composta da 22 calciatori. Il club può inserire altri due pezzi per arrivare a 24 elementi. Tre con la partenza di Colai da capire ancora quale sarà la destinazione dell'italo albanese. Ricordiamo ancora la campagna trasferimenti. Si conclude venerdì 1 settembre alle ore 20. Il giorno dopo, prima di campionato all'Adriatico contro la Juventus Under 23. Inizio ore 20.45.